Cosa c'è di più chiaro? Nel Corano è scritto E' Dio che ti ha creato, poi ti ha mantenuto, poi ti farà morire e di nuovo ti darà la vita, sia gloria a Lui. Commento Che cosa c'è di più chiaro a favore della reincarnazione? Ma la reincarnazione non deve suggerire il fatalismo. I fatalisti accettano gli avvenimenti perché sono così e vivono ciò che accade come fanno gli animali, senza cercare di modificare gli eventi con l'intenzione e le scelte.